Ho presentato un'interrogazione urgente, l'ho fatto esattamente ieri e tengo a sottolineare una cosa, saremmo portati a pensare che si tratti di un caso di mala sanità. Non è così, perché la struttura pubblica, l'Ulss, si è comportata in maniera più che coerente e più che adeguata. Ha deciso di sospendere da quel tipo di attività l'infermiera, le persone interessate, ha fatto un esposto all'autorità giudiziaria ed ha avviato una campagna di rivacinazione. Quindi si è comportata bene l'Ulss, chi non si è comportato bene è quell'operatore sanitario, che per fortuna è stato sospeso da quel tipo di servizio. Che tipo di intervento può fare lo Stato su questo? Su questo caso specifico deve essere l'azienda Ulss che deciderà per quanto riguarda la sospensione oppure anche l'allontanamento dal lavoro. Io ho chiesto con la mia interrogazione che lo Stato avvii una campagna a livello nazionale di corretta informazione, che non sia lasciata molto spesso l'informazione e che si improvvisa esperto. Le informazioni devono essere su questo settore che è estremamente delicato, devono essere suffragate da un punto di vista scientifico. Grazie a tutti.